ciao a tutti oggi è una giornata davvero speciale sì perché abbiamo modo di intervistare uno degli youtuber più promettenti accattivanti e affascinati del momento non c'è bisogno di presentazione e per questo motivo non ve lo presentiamo io direi di passare subito le domande intanto grazie per averci accolto qui a casa sua sarà senta allora passerei subito la prima domanda qual è il suo vero nome devo guardare qui dentro se vuole guardi pure lì dentro comunque può guardare anche me faccia un po come crede si senta libro di fare quello che vuole ciao il mio nome è giorgio bene giorgio bene 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 allora passiamo subito velocemente alla seconda domanda qual è la sua età passiamo alla domanda successiva è sempre io ho una scaletta 15 vorrei che rispondesse a questa domanda insomma ci stanno guardando vabbè o grazie grazie per la sua risposta quanto è alto la sua altezza sono alto un metro 75 molto bene molto bene senta siamo curiosi di sapere qual è il suo peso che domande idiote vabbè peso 75 chili adesso le faccio una domanda un po più sul personale ma lei quando aveva i capelli quando aveva i capelli di che colore erano domande sempre più idiote sì ok una volta anch'io aveva i capelli i miei capelli erano di colore castano abbiamo svelato un segreto il nostro youtuber preferito c'è stato un tempo che aveva i capelli passiamo alla domanda successiva il colore dei suoi occhi che cagate di domande vabbè i miei occhi sono castani ottima ottima risposta senta qua mi chiedono se pratica degli sport sì sì mi piace fare sport diciamo che in particolar modo faccio running sì chissà come saranno contenti di questa risposta wow fa il runner fa il runner caspita ma ci può dire quanti chilometri fa cioè fa qualche centinaio di metri o comunque si impegna a fare veramente delle belle corsette ma domande più serie no cioè praticamente mi ha fatto la carta di identità comunque ad ogni modo io faccio circa 10 chilometri tre quattro volte alla settimana siete capaci di farli voi è lei veramente è una persona molto cordiale una persona molto molto simpatica questo youtuber che veramente apprezziamo molto e io direi che ho finito con le domande a questo punto lo possiamo anche salutare giusto sinceramente non capisco anche che razza di domanda mi avete fatto mi avete chiesto nome cognome altezza voglio dire ma chi bene molto bene vabbè sapete cosa vi dico sono io che saluto voi perché comunque mi avete rotto le palle ciao ciao